Chiusura in rialzo per piazza affari con il Futsmib a più 0,62% e l'Allshare a più 0,51%, mentre le principali borse europee chiudono miste. A Milano, che risente del calo di Wall Street sugli indicatori USA negativi, vanno bene i bancari con Unicredita più 1,80%, UBI più 1,86%, Banco Popolare Emilia Romagna più 1,92%, Banco Popolare più 2,82%. Segnali di ripresa anche per il lusso con Geox più 2,33%, Ferragamo più 1,78%, Luxottica più 2,68%. Giù invece RCS meno 6,31% e Telecom meno 0,01% all'indomani dell'Assemblea in cui è stata confermata la volontà di proseguire nello scorporo della rete. I mercati mantengono gli occhi puntati su Montecitorio in attesa di conoscere il nome del prossimo Presidente della Repubblica. Il trend rialzista di oggi per la Borsa di Milano, che a fine seduta ha allimato comunque i guadagni, e potrebbe riproporsi se riuscisse a trovare un accordo per la terza votazione con i due terzi del Parlamento.